Mobilità sostenibile che oggi parte anche all'interno del Comune di Parma. Dall'8 di febbraio verranno conferiti buone mobilità per tutti i dipendenti comunali, buone mobilità per attingere gratuitamente ad abbonamenti di bike sharing, car sharing e per il deposito in cicleteria vicino alla stazione. In continuità, quanto abbiamo già effettuato con l'azienda ospedaliere di Parma, con l'università, con l'azienda OSL, vogliamo infatti promuovere l'utilizzo di mezzi alternativi all'auto privata e soprattutto fare provare questi nuovi servizi che sono davvero efficienti e fanno bene all'ambiente.